buongiorno buongiorno a tutti benvenuti a vediamoci chiaro oggi parliamo della della casa ma in particolare di un luogo che tutti quanti noi frequentiamo assiduamente durante la settimana e soprattutto al fine settimana che è la cucina insomma come pulire nel migliore dei modi e con metodi naturali e magari anche spendendo poco la cucina di casa ne parleremo con il nostro ospite che ringraziamo e salutiamo come sempre ciao buongiorno mattia alessio blogger la casa di mattia ben tornato e ben ritrovato buongiorno e allora invece se avete dei dubbi perplessità quesiti domande tutto quello che volete chiedere da casa beh c'è come sempre in studio maris milanese buongiorno buongiorno mattia buongiorno giuseppe buongiorno carissimi amici che ci seguite da casa io sono prontissima ad accogliere tutte quante le vostre domande ecco quindi se avete domande anche specifiche voi me le scrivete tramite whatsapp al nostro numero 3 4 0 8 8 0 10 35 io ovviamente lo girerò al nostro esperto se preferite potete anche cercarci sui vari social oltre alla casa di mattia vediamoci chiaro su facebook instagram e twitter mattia prima di entrare nel vivo perché daremo delle indicazioni precise su varie cose da effettuare operazioni da effettuare in cucina ti chiedo dopo le festività la prima cosa da fare dice sempre mia mamma insomma in maniera molto attenta è quella di riordinare un po la dispensa perché in che modo guardando le scadenze che bisogna fare diamo qualche indicazione in generale sull'ambiente cucina da fare appena dopo le vacanze ma sicuramente dopo le vacanze quando andiamo a cucinare per natale compriamo un sacco di prodotti ingredienti per cucinare eccetera quando inizia l'anno andiamo a fare una bella pulizia profonda dell'interno degli armadietti come hai detto te andare a vedere se ci sono dei prodotti scaduti piuttosto che dei prodotti che appunto sono vicino a scadenza da utilizzare nel breve termine e poi appunto una bel svuotare completamente l'interno della cucina e andare a pulire tutto bene è molto facile la pulizia dell'interno dei dei scaffali ad esempio perché possiamo usare semplicemente un po di acqua e detersivo per i piatti passandolo dentro e sicuramente otterremo un mobile ben sgrassato e pulito e poi insomma distanziare in base alle scadenze insomma mettere quelle più insomma scadenze più lontane in fondo e mettere davanti in modo da avere un quadro della situazione come dicevi tu si fanno tanti acquisti durante il periodo natalizio entriamo nel vivo da che cosa vogliamo partire per pulire questa cucina oggi allora dunque sicuramente c'è la parte esterna della pulizia all'inizio dell'anno possiamo partire dal pulire tutto quello che è la leante la parte superiore partire da sopra la cucina perché dobbiamo sapere che si parte da sempre sopra la pulizia della cucina questo si vede nel nel video e si parte con pulire bene i mobili oppure la pulizia del lavello il lavello viene macchiato con acqua e di conseguenza rimangono le macchie di calcare noi andiamo a fare una soluzione con un mix di acqua e detersivo per i piatti dove puliamo innanzitutto i mobili andiamo a sciacquarli e asciugarli ecco stiamo vedendo insomma in qualche modo bisogna utilizzare che 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 panno ecco bisogna utilizzare un panno in microfibra il pane microfibra è il più delicato per la pulizia delle superfici perché non va a graffiare se noi andiamo ad utilizzare una spugnetta ad esempio con una parte la parte verde si va a rovinare la superficie quindi si ha paura di poterlo graffiare invece il panno in microfibra è l'unico che va a trattare delicatamente la superficie ecco come stiamo vedendo allora questo insomma il primo intervento che bisogna fare ci aiuteremo appunto con questi filmati ora invece ti chiedo secondo step secondo passaggio per le pulizie generali in cucina che cosa bisogna fare in particolare sull'acciaio ecco che bisogna come bisogna intervenire come bisogna insomma anche e spieghiamo anche con costi limitati e usi sempre prodotti molto molto insomma economici allora per quanto riguarda la pulizia dell'acciaio come dicevo prima andiamo a togliere quello che è il calcare sull'estiluo del piano cottura ad esempio a me piace utilizzare un prodotto naturale o del lavello che può essere l'acido citrico l'acido citrico è l'anti calcare naturale per eccellenza ma il costo è un baratto da un chilo che può durare anche più di un anno e siamo intorno agli 8 9 euro quindi se ne usa veramente economico esatto e si va a passare una soluzione di acido citrico e detersivo per i piatti creiamo una pappetta l'andiamo a mettere sul lavello passiamo sulla con la spugnetta che va benissimo risciacquiamo e asciughiamo e il lavello sarà completamente privo di macchie di calcare che sono quelle un pochino più anti estetiche che di solito rimangono sulla superficie del lavello stesso e non utilizziamo prodotti chimici stiamo vedendo insomma questi filmati però tu ci vuoi fare ritorniamo in studio perché tu ci vuoi in qualche modo far vedere anche un'altra cosa proprio dal dal vivo qui perché abbiamo i piattelli che sono tutti i piattelli spieghiamolo magari qualcuno sicuramente le persone a casa lo soprano ma qualcuno magari può sfuggire perché sono quelli che maggiormente sono sporchi visto l'utilizzo costante continuo quotidiano che noi effettuiamo giusto esatto rimangono molto spesso delle macchie che possono essere macchie di acqua oppure macchie addirittura di cibo per chi non avesse il piano induzione ma un piano classico questo è una delle pulizie più noi ose da fare noi abbiamo però un sistema che prevede l'utilizzo di sale o bicarbonato quindi uno dei due e un po di detersivo per i piatti una paglietta in acciaio e poi un cucino d'acqua noi cosa andiamo a fare prendiamo un pochino di sale e lo andiamo a mettere sul nostro piattello prendiamo poi una goccia di detersivo per i piatti prendiamo la nostra paglietta d'acciaio la bagniamo leggermente e andiamo a sfregare sulla superficie del piattello non si riga perché questi piattelli hanno delle coperture che non vanno a rovinarsi utilizzando la paglietta d'acciaio ci sono poi comunque delle pagliette che sono antigraffio faccio notare una cosa importante è messo un della carta sotto questo è bene farlo anche a casa perché altrimenti si rovina prima di passarlo appunto nell'acqua perché è importante un po di rotolo di carta per poter poi evitare dei danni insomma al tavolo anche se comunque non sono dei prodotti chimici quindi non vanno troppo a rovinare le superfici però per evitare un doppio lavoro quello sì cosa facciamo adesso poi lo andiamo a sciacquare ad asciugare e come vedete il piattello è tornato tutte le macchie che c'erano sopra in maniera semplicissima e in pochissimo tempo soprattutto prima di vedere di sentire le domande che c'erano da casa un piattello sporco che cosa produce produce la fiamma più insomma meno viva può creare dei problemi ma in realtà se ci sono ad esempio delle macchie di grasso se si scaldano tutte le volte poi può causare un po di fumo o di cattivo odore quindi sicuramente è sempre meglio tenere i puliti ogni quanto tempo bisogna fare questa operazione che è un po insomma intensa ma direi una volta ogni 15 giorni o una volta al mese una volta al mese dipende poi dall'utilizzo dell'utilizzo del piano ovviamente del piano allora domande da casa maris alice mattia voleva chiederti dice intanto ci segue sempre grazie mattia alice continua così date sempre dei consigli favolisi ma vorrei chiedere gentilmente a mattia invece come pulire i bruciatori quelli sotto i piattelli del piano cottura vuole sapere va utilizzato lo stesso metodo che abbiamo appena visto possiamo utilizzare lo stesso identico metodo quindi con un'unica soluzione possiamo pulire sia la parte del piattello che lo spargifiamma senza problemi quindi sì assolutamente con lo stesso metodo va benissimo ed ora passiamo alla parte inferiore un po della cucina il forno che molti hanno anche un forno a parte chiaramente è stato molto utilizzato durante le festività durante i fine settimana perché magari qualcuno a casa decisamente ha cucinato insomma il dolce qualche qualche pietanza un po più elaborata come pulire il forno e soprattutto ti chiedo ogni quanto tempo bisogna pulire il forno che viene sempre viene utilizzato spesso a casa dalle famiglie allora il forno anche in questo caso possiamo utilizzare il sale o il bicarbonato la nostra soluzione quindi questa pappetta creata con il detersivo per i piatti e passare con tutta con una paletta d'acciaio o con la spugnetta con la parte verde tutta la superficie del forno poi lo lasciamo agire qualche minuto prendiamo una microfibra risciacquiamo e andiamo poi l'importante risciacquare bene soprattutto non devono rimanere comunque residui di sale o di bicarbonato andiamo ad asciugare e il forno tornerà splendente come dicevi te ovviamente quando lo si utilizza il forno si sporca facilmente il mio consiglio è ogni volta che lo si usa anche solo con un panno umido giusto da togliere se ci sono dei risuidi che se no la volta dopo si vanno a bruciare ti chiedo una volta fatto questa operazione che stiamo vedendo di pulizia del forno bisogna accenderlo perché magari comunque abbiamo passato un po di detersivo all'interno per evitare poi quando mettiamo una pietanza di avere delle sgradevoli sorprese non so farlo stare per un po 10 minuti acceso e poi utilizzarlo una volta successiva che bisogna fare allora è un'ottima osservazione sicuramente come ti dicevo il risciacqua è fondamentale poi se vogliamo possiamo farlo andare anche giusto qualche minuto con la temperatura massima così si asciuga bene eventuali residui che possono rimanere evaporano ed è pronto per essere utilizzato e allora mattia andiamo sempre da nostri telespettatori a casa con maris si siamo andati sul forno ma ritorniamo un attimo vicino al piano cottura precisamente sul top perché la signora giuliana dice vorrei un aiuto per pulire bene la guarnizione del top zona lavello diciamo più o meno ecco che prodotti utilizzare e anche che che spugna che pannello allora le guarnizioni sono un pochino noiose perché magari bisogna non si riesce ad arrivare bene nella profondità pulire io consiglio un pochino di detersivo per i piatti va bene se l'abbiamo il per carbonato che è un prodotto che abbiamo utilizzato tante volte e con uno spazzolino andare bene a pulire la guarnizione quindi con l'utilizzo di una spazzola o di uno spazzolino si arriva in profondità scusate dove si trova il per carbonato io aggiungo una oltre a questa domanda di maris aggiungo un'altra super carbonato spieghiamo che cos'è perché insomma vai a casa magari si insomma sono disorientati cos'è il per carbonato solo che un tuo cavallo di battaglia il per carbonato non è il bicarbonato ma è un altro prodotto sempre in polvere che contiene al suo interno l'ossigeno attivo l'ossigeno attivo è uno dei igienizzanti e sbiancanti naturali quindi quando andiamo ad utilizzarlo su una fuga piuttosto che ad esempio poi sul bucato in generale va a igienizzare quindi utilizzando il per carbonato al posto di il bicarbonato sbiancheremo le nostre fughe o le guarnizioni comunque è un barattolino simile all'acido citrico e anche quello ha un costo prepariamoci al frigorifero ma prima andiamo a casa dei nostri telespettatori sì ecco c'è maria che dice vorrei chiedere come si possono togliere incrostazioni di calcare formate dall'acqua ne abbiamo parlato fino adesso sul lavello però dice un lavello in corian penso sì non ci così ecco come possiamo aiutarlo perché poi ci sono varie tipologie vari materiali forse ci sono tipo insomma dei procedimenti diversi in questo caso ma in realtà l'acido citrico essendo molto delicato sulle superfici va benissimo anche per i lavelli in corian infrangite quindi si può utilizzare una soluzione di acqua e acido citrico quindi basta un bicchiere d'acqua e un cucchiaio di acido citrico poi da versare direttamente sul lavello e passare con un panno in microfibra va benissimo arriviamo al frigorifero insomma tormento ma anche dolcezza delle nostre giornate perché intanto apriamo e prendiamo qualcosa allora bisogna pulirlo partiamo proprio dal frigo qual è il metodo migliore per poter pulire questo frigorifero ce lo puoi descrivere allora dunque innanzitutto partiamo svuotando tutto il frigorifero nel caso in cui ci sia la parte dietro lo spegniamo perché così almeno si scioglie eventualmente un po di ghiaccio se c'è del ghiaccio lo spegniamo lo lascia un pochino sciogliere poi riempiamo il lavello del della cucina con acqua calda detersivo per i piatti e aggiungiamo o il percarbonato o un altro prodotto che utilizzo molto spesso che la candeggina delicata che va benissimo per igienizzare le superfici andiamo a prendere il nostro panno in microfibra lo immergiamo nella soluzione e passiamo tutta la superficie del frigorifero direttamente su tutti i punti bene le guarnizioni bene i punti difficili nascosti dove si può accumulare dello sporco poi andiamo a risciacquare tutto ovviamente per togliere i residui e ad asciugarlo bene così almeno poi e il frigo è pronto per essere di nuovo riempito quindi comunque in questo caso non è come per il forno non ogni 15 giorni perché sennò uno è impazzito quanto bisogna fare la pulizia del frigo in realtà il frigo come per il forno in base a quante volte si fa la spesa quindi quante volte si introduce cibo da fuori che ritroviamo negli scaffali è un po' una questione soggettiva però sicuramente una volta al mese da fare il frigorifero anche lì prima di andare ai nostri telespettatori ti chiedo il freezer perché bisogna sbrinarlo spesso si dice questo quando si fa del ghiaccio all'interno ora in che modo e soprattutto ogni quanto bisogna fare questa operazione che abbastanza semplice però c'è bisogno di tempo ma fare un'operazione del genere sicuramente una volta ogni sei mesi una magari durante prima dell'estate si spegne il frigorifero si va a sbrinare togliendo con una spatolina il ghiaccio l'idea di inserire dentro tanti inseriscono la pentola con l'acqua calda però può rovinare un pochino il contorno del del freezer quindi con una spatolina si toglie il ghiaccio e poi si pulisce con il metodo che abbiamo utilizzato per il frigo quindi lo stesso metodo del frigo anche per quanto concerne il freezer ancora domande da casa mario sul frigo alla signora aida dice insomma abbiamo visto anche le immagini dice ecco come pulire correttamente l'interno e la superficie esterna del frigorifero ecco quali panni e spugni utilizzare come ecco ce l'hai detto però diamo dei consigli ecco anche tecnici su quale materiale utilizzare ma allora anche in questo caso il panno in microfibra e per lavare e un panno in cotone per asciugare sicuramente la cosa più delicata che si può utilizzare sulle superfici soprattutto se si parla poi di superfici esterne in acciaio ad esempio quindi che non devono essere rigate perché altrimenti se usiamo spugnette o paglietta andiamo a rigare tutta la superficie e lì poi non si torna più indietro ecco arriviamo abbiamo visto un po tanti elettro abbiamo visto il frigorifero l'altro elettro elettrodomestico insomma domina in cucina è sicuramente la lavastoviglie ecco in quel caso che bisogna fare lì c'è bisogna anche pulirla periodicamente sì ecco mi fai uno sguardo io alzo le mani assolutamente sì anche perché la lavastoviglie ha un sistema filtrante ad esempio che va a trattenere eventuali residui di cibo che si possono accumulare bisogna lavare bene i piatti prima di inserire non si devono pre lavare i piatti si deve togliere solo un pochino il residuo grosso perché sono altrimenti il detersivo non ha niente da mangiare quindi si tolgono i pezzi grossolani dai piatti prima del lavaggio però la cosa importante proprio la pulizia del filtro che si deve smontare si mette nel lavandino si passa con una spazzolina per piatti anche in questo caso possiamo usare una soluzione di acqua detersivo per i piatti qui nella parte sgrassante dobbiamo togliere anche i bracci con i forellini perché sono molto importanti quelli perché permettono la pulizia dei piatti un'altra cosa importante la pulizia della guarnizione perché si può accumulare anche in quel punto dello sporco e una volta al mese fare una pulizia con un cura lavastoviglie che è un prodotto apposta oppure il nostro amico per carbonato da inserire all'interno del dispenser del detersivo e avviare un ciclo ad alta temperatura intensivo quindi un ciclo a 70 gradi anche in questo caso ti chiedo una volta fatte queste pulizie sostanziose alla lavastoviglie bisogna farla insomma metterla in movimento per un po' di tempo per fare anche senza piatti all'interno per essere tranquilli assolutamente puoi invece partire subito la volta dopo con il lavaggio dei piatti non c'è alcun tipo di problema non c'è bisogno da questo punto di sapere per il forno ok allora domande ancora da casa abbiamo parlato del forno prima abbiamo visto anche le immagini insomma su come pulirlo però c'è anna maria che voleva sapere lo sportello invece in vetro al di là della disperazione di quando finisce qualcosa all'interno del vetro ecco come è possibile pulirlo con quali rimedi allora gli utilizziamo il detersivo per i piatti sicuramente una spugnetta con la parte verde va bene se c'è un'incrostazione di grasso molto bruciata ci sono delle spatoline di plastica che si trovano nei negozi di ferramenta che passandole sopra il vetro vanno proprio a eliminare e a togliere il grasso dopo che magari abbiamo le abbiamo bagnate con un po di acqua di tersio per per aiutare però con quelle viene benissimo ecco ma spesso noi ci dimentichiamo di fare queste pulizie anche sul sul forno nel forno aspettiamo due tre settimane questo peggiora la situazione nel momento in cui facciamo la pulizia c'è queste incrostazioni che spesso sono difficili poi di allevare beh sicuramente se lo si utilizza tutte le volte con il residuo di cottura della volta prima si va a creare un'incrostazione ancora più bruciata e resistente quindi per quello che dopo ogni utilizzo sarebbe utile passare un pochino un panno giusto perché ci vuole una manutenzione periodica insomma non dico quotidiana ma settimanale maris ci sono tantissime domande allora maria chiede il percarbonato del quale abbiamo parlato non ne sono detto però dove lo si può trovare allora lo si può trovare in tutti i negozi che vendono dei detersivi su internet e ora qualche negozio qualche supermercato comincia sennò i negozi che vendono prodotti naturali perfetto grazie grazie davvero al nostro ospite mattia alessio blogger la casa di mattia abbiamo dato uno sguardo insomma come pulire nel migliore dei modi la cucina grazie davvero ed ora come sempre siamo la giornata in cui c'è la rubrica vediamoci che insieme c'è per noi giuseppe pinetti vediamo dove si trova oggi giuseppe che cosa ci racconta giuseppe dove sei buongiorno giuseppe buongiorno oggi mi trovo sul litorale laziale esattamente a fiumicino perché proprio da qua che è arrivata la richiesta di una nostra telespettatrice che ha bisogno del nostro aiuto lei si chiama veronica buongiorno veronica oggiorno vedo una stella di natale ma noi ne abbiamo già parlato è sì lo so ma io sono riuscita a portarla in vita fin dopo le feste e voglio farti una domanda sì come faccio a mantenerla sana tutto l'anno e portarla al prossimo natale al prossimo natale ecco io questo non lo so però vado a chiedere a chi di sicuro lo sa tu intanto ti attrezzi per sentirci e per vederci e se hai una domanda fantastico veronica vado e torno daniele taffondela col diretti buongiorno s os stella di natale istruzioni per l'uso prima di tutto mi raccomando utilizziamo dei guanti perché come avevamo già detto la stella di natale contiene un liquido che è una linfa diciamo che è urticante rischia di diciamo di poter avere fastidiosi poi prendiamo una bella un taglierino e adesso cominciamo a tagliare a 20 centimetri diciamo dal dal fusto ok questo modo in modo tale da eliminare tutte le le foglie vecchie quelle che stanno cadendo allora prendete la vostra stella di natale e cominciate a fare questa operazione diciamo potremmo pensare che stiamo facendo una cosa stiamo uccidendo praticamente invece no le stiamo facendo una bella donando una nuova vita diciamo togliamo anche queste foglie ecco in questo modo non spaventatevi perché vederla così adesso è un po' deprimente possiamo utilizzare un po' di terriccio da mettere in questo modo ecco quindi chiudere diciamo la ferita tra virgolette quindi terriccio e possiamo fare questa operazione molto bene ok allora noi abbiamo scusa domanda domanda post post feste anche dopo le feste la domanda sentiamo che cosa che cosa deve chiedere il vaso che faccio tengo questo o lo cambio sembra già quasi esperto allora vaso come come ci regoliamo lo dobbiamo cambiare lo cambiamo il vaso avendo cura di sistemare un po di argilla espansa mi raccomando queste sono piante che non amano l'umidità quindi nello strato trenante deve essere bello spesso quindi almeno due centimetri due centimetri di argilla espansa poi terriccio universale a base di torba e poi possiamo svasare la nostra pianta ed infilarla all'interno in questo modo avendo cura poi di coprire diciamo di terreno e spazi mancanti e in questo modo come la conserviamo allora tagliamo questa le i rami durante tutta la primavera l'estate comincerà a germinare di nuovo e quindi avere le foglie a settembre in un luogo assolutamente buio per tre mesi la cura del buio quindi sgabuzzino sgabuzzino buissimo e quando andremo a riprendere vedremo che inizieranno a comparire le bratte rosse quindi non saranno di non allarmatevi se non sono di quel rosso vivo come in origine però comunque avrà una vita nuova e quindi ogni anno poi si ripeterà esatto grazie daniele tafon grazie mille torno alla mia postazione mobile eccoci veronica allora riusciremo a portare questa stella di natale anche al prossimo natale assolutamente sì grazie ai consigli di daniele la manterrò in vita tutto l'anno noi verremo anche a controllare allora mi fa piacere perché insieme a te voglio inaugurare il motto del nuovo anno vediamoci chiare insieme l'hai anche centrato ottimo grazie grazie giuseppe e pinetti noi chiudiamo qui questa trasmissione ma prima vi raccontiamo che cosa succederà lunedì prossimo esatto noi auguriamo un buon fine settimana ma non tutti sanno che il 17 gennaio è la giornata internazionale della pizza proprio in onore di sant'antorio abate perché è il patrono dei pizzaioli e quindi parleremo proprio della pizza anche per la gioia di giuseppe di la verità sicuramente insomma è l'alimento made in italy che è più conosciuto in tutto il mondo siamo appassionati di pizza io particolarmente ne parleremo vedremo dei consigli vi faremo vedere delle immagini bellissime allora appuntamento lunedì mattina come sempre 10 e 30 in questo studio vediamoci chiaro e a tutti quanti voi un sereno fine settimana